Salve a tutti e ben ritrovati da Tenue Informatico. In questo mio nuovo tutorial vediamo come riparare lo sciacquone del WC. Tutti i modelli non sono sempre uguali ma sostanzialmente i componenti interni si assomigliano come ad esempio la valvola di aspirazione, il galleggiante e via dicendo. Vado a svitare questa ghiera, la tiro via completamente in modo poi da togliere il coperchio in porcellana. Tiro il coperchio, lo metto da una parte. Questo è l'interno dello sciacquone modello Gebirith in plus 360. Per adesso sembra tutto a posto, però mi sembra che vedo qualcosa che non va nella valvola del galleggiante. Quindi la valvola di aspirazione, in effetti vedo che è derrotta. Se avete lo stesso problema in questa guida vi faccio vedere come sostituire la valvola di aspirazione galleggiante della Gebirith. Bene, io direi di procedere, smontiamo la valvola e poi la andiamo a sostituire con una nuova. Per togliere la valvola di aspirazione, quindi la valvola del galleggiante, bisogna con una chiave inglese svitare il dado del flessibile. Nel mio caso è un po' complicato perché purtroppo il flessibile è montato sotto lo zaino e viene a me scomodo riuscire a svitarlo. Comunque non tutti sono installati allo stesso modo, come nel mio caso. La prossima cosa da fare è quella di svitare il dado in plastica, quello che tiene bloccato la valvola di aspirazione galleggiante del vostro sciacquone. La svitate completamente. Prima di fare tutto questo lavoro è importante aver già scaricato l'acqua dello sciacquone e poi una volta fatto potete procedere a rimuovere completamente la valvola di aspirazione galleggiante. Sono di ritorno, ho acquistato la nuova valvola di aspirazione galleggiante del mio sciacquone e adesso vado a sostituirla. Notate che sono completamente diverse tra loro proprio perché non è importante che sia uguale all'originale, proprio perché quello che conta alla fine è l'attacco, che sia identico. Quello è molto importante. Comunque quando andate nel vostro negoziante di fiducia chiedete che la valvola del vostro sciacquone sia compatibile con l'attacco. Comunque anche lui vi consiglierà il componente adatto al vostro sciacquone zaino e poi una volta fatto procedete alla sostituzione. Come potete vedere dal video sono stato costretto a smontare completamente lo zaino dal WC. Perché chiaramente nella parte sottostante era molto difficoltoso riuscire a montare il flessibile e quindi la valvola. Se dovete smontarlo anche voi, se non riuscite e quindi avete difficoltà, basta. All'interno dello zaino ci sono due viti a taglio, quindi utilizzate un cacciavita a testa piatta. E andate successivamente a svitare questi due dadi a farfalla. Una volta fatto, estraete lo zaino del WC, quindi lo zaino dello sciacquone. Lo appoggiate comodamente sopra un ripiano in modo da poter lavorare meglio. E quindi andare a installare la valvola e poi il flessibile. Bene, procediamo. Mettiamo adesso il dado di plastica, lo avvitiamo completamente e poi lo stringiamo. Applichiamo sulla filettatura della valvola, dove poi andrà il flessibile, il teflon. E facciamo più giri intorno alla filettatura. E questo servirà poi per montare l'adattatore che andrà al flessibile. Successivamente, io adesso vado ad avvitare l'adattatore per montare poi il flessibile. Lo avvitiamo a mano e lo stringiamo con una chiave a pappagallo o chiave inglese. Sempre avendo una seconda chiave per far sì che la valvola non si giri durante il blocco dell'adattatore. Nel passaggio successivo andiamo a montare il flessibile e poi per concludere si dovrà sempre con due chiavi bloccare il flessibile alla valvola. Ora concludiamo il lavoro riposizionando il coperchio in porcellana sopra allo sciacquone. Successivamente andiamo ad avvitare la ghiera e il pulsante. Facciamo una prova. Bene, abbiamo visto come funziona tutto perfettamente. L'installazione della nuova valvola di aspirazione galeggiante è andata benissimo. Non ha avuto tante difficoltà per la sostituzione. Ci rivediamo alla prossima. Datelo un informatico. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciatemi like positivi. Ciao a tutti! Ciao a tutti!